Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società ferrotrambiaria saranno responsabili civili nel processo per il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, avvenuto sulla tratta a Corato Andrea delle Ferrovie del Nord Barese, che causò la morte di 23 persone ed il ferimento di altri 51 passeggeri. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani e Angela Schiralli nel corso dell'udienza celebrata ieri pomeriggio presso l'aula bunker del carcere tranese. Il GUP ha così respinto la richiesta di estromissione presentata durante l'udienza dell'11 ottobre scorso dei legali del Ministero e della società ferroviaria, i cui avvocati difensori si erano posti alla citazione sostenendo l'esclusione della responsabilità civile per l'ente imputato. Quanto al MIT invece la richiesta era stata motivata per un aspetto formale, ritenendo il decreto di citazione incompleto richiesta questa ritenuta infondata dal giudice. Accolta invece la richiesta della Regione Puglia, che nel processo è già parte civile. A rischiare il rinvio a giudizio sono attualmente 18 persone, tra dirigenti e dipendenti di ferro trambiari e del Ministero dei Trasporti, accusati a vario titolo di disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, falso e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Secondo le indagini della magistratura tranese, lo scontro fratale tra i due treni fu causato da un errore umano, ma per il disastro sono comunque ritenuti irresponsabili anche coloro che non avrebbero vigilato sulla sicurezza della tratta ferroviaria, dove si viaggiava a binario unico e con l'obsoleto sistema del blocco telefonico. Si tornerà in aula il prossimo 25 ottobre per l'eventuale richiesta da parte degli imputati di essere processati con riti alternativi. Poi si procederà alle discussioni di accusa e difesa con un calendario di due udienze a settimana, sino alla data del 15 novembre.